Ciao a tutti, oggi prepareremo il goto di ricotta e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, uova, zucchero semolato e ricotta di pecora. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Mettiamolo momentaneamente da parte. Senza lavare il boccale posizioniamo adesso la farfalla, mettere lo zucchero, le uova, le facciamo montare per 10 minuti a velocità 3,5. Aggiungiamo adesso la ricotta. Facciamo amalgamare per un minuto a velocità 4. Aggiungiamo il cioccolato e facciamo amalgamare per 10 secondi, anti-orario, velocità 3. trasferiamo il composto in uno stampo con apertura cerniera del diametro di 22 cm ricoperto con carta da forno. Cuociamo in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40-45 minuti circa. il gato è cotto lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuoverlo dallo stampo gato di ricotta e cioccolato grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti. grazie a tutti.